Tu eri abbastanza vicino al luogo dell'esplosione, cosa hai sentito e cosa hai provato nell'immediatezza? Si è sentito un tuono molto forte, poi si è vista questa vampata alta circa 80 metri che bruciava tutta questa zona. Io abito qua un chilometro, ero lì nel giardino, sono subito venuto in qua a corsa a vedere la situazione, che era tragica, è stata tragica ma fortunatamente sembrerebbe che non ci siano defunti. Questo è il primo bilancio, quante persone abitano in questa zona, nell'immediata vicinanza di quello che accade? Tre persone in una casa qua e altre quattro di lì e una decina di persone proprio qua. Sono quelle che sostanzialmente sono rimaste ferite, però questa casa che brucia completamente non era abitata? Questo è un fianile e la casa di dietro che sta bruciando ancora era una casa di gente piemontesi, quindi non sono in zona in questo periodo. E poi un'altra casa lì dietro, questa che è quasi crollata completamente, c'erano delle persone che erano andate a mangiare fuori quest'oggi, fortunatamente.